Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è. Amici buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coglite, eccoci di nuovo insieme per il Buongiorno di Radio Vaticana Italia. E a questo punto sono proprio curioso di conoscere i consigli, cosa ci dirà oggi la nostra amica Matilde che ci ha raggiunto in studio. Orazio buongiorno, oggi andiamo a Teheran per parlare del ponte Tabiat. Un ponte, mi pare, pedonale che unisce due grandi parchi divisi da un'arteria di grande scorrimento, Matilde. Esatto, 270 metri di camminamento, il più grande ponte pedonale della città e la sua caratteristica sono i tre livelli, attrezzati di panchine, ristoranti, caffè, tabbiate in persiano, vuol dire natura, ed è un luogo di incontro, il più frequentato della capitale. Ma so che hai una curiosità su questo ponte. Sì, l'architetta è una donna, una giovane studentessa universitaria, Leila Raghian, che per il suo lavoro ha vinto molti premi internazionali. Ma raccontaci bene come ha avuto l'idea questa talentuosa architetta iraniana. Un giorno trova un divano in pelle abbandonato, questo strano ritrovamento accende in lei una lampadina, si chiede come sarebbe mettere quel divano su un ponte vicino, lo fa e si ritrova a sedere su quel ponte, osservando i passanti mentre l'acqua scorre sotto i suoi piedi. Il ponte diventa così un'estensione tutta da vivere dei due parchi. Ci sono stati problemi nel realizzare questo ponte, Matilda? Sì, perché l'ostacolo più grande era l'embargo internazionale che vietava a molti paesi il commercio con l'Iran, ma alla fine il ponte è stato costruito e sono stati usati 2000 tonnellate di acciaio e 10.000 metri cubi di cemento, pensa. Sento che c'è un'altra sorpresa, lo vedo proprio dai tuoi occhi che sono raggianti. Eh sì, sono fiera perché il ponte è stato realizzato da uno studio di ingegneri di Vicenza, un marchio tutto italiano che si è occupato della struttura metallica e della progettazione strutturale. E per gli abitanti di Teheran, il ponte di Tabiat cosa è diventato? È un punto di riferimento per chi ama i parchi e il verde, pensa che Teheran è una città che soffre molto l'inquinamento atmosferico. Ogni inverno l'inquinamento raggiunge dei picchi altissimi, pensa che la città si trova tra i 1400 e i 1800 metri e succede che c'è un fenomeno detto di inversione termica. Che cosa succede? L'aria fredda in altitudine impedisce la fuoriuscita di aria calda e inquinata. Comunque se andate a Teheran, visitate il ponte Tabiat. Sarete in affollata compagnia della gente che corre, cammina, va in bicicletta o sosta nei tanti locali. Potete gironzolare e perdervi anche. E adesso vi do un'indicazione. per chi sta per partire per Teheran, se volete raggiungere il ponte, dovete prendere la metro, la linea Line 1 Carizaz e scendete alla stazione Talegani. Entrate nel parco Talegani dove ci sono le indicazioni per il ponte Tabiat. Il ponte della natura. Orazio, chiudo con un invito al viaggio come scoperta del sé per tutti gli amici di Radio Vaticana Italia e magari anche in Iran. grazie alla nostra Matilde che ora prima di andare via ci ricorda il suo indirizzo. I segreti di Matilde.com. Grazie. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'agurio di una splendida giornata.